Valdese, faccia da buono, l'ora ex sostenitore del Cavaliere, passato a fare il berlusconiano duro e puro, smentì di aver votato per quattro colleghi assenti e gli credemmo. L'altro giorno arriva la notizia che il senatore Lucio Malan ha improvvisamente sentito scattare qualcosa nella propria coscienza politica e che perciò non si riconosce più nei valori di forza Italia. Così, di botto. Dopo un quarto di secolo passato a fare il berlusconiano duro e puro, una martellante crisi di coscienza, un groppo in gola, e poi commozione, incredulità, anche perché con fratelli d'Italia avrà la certezza di essere rieletto. Trovalo un partito che a 60 anni suonati ti garantisce ancora un posto in Parlamento. Ma a lui la capriola è riuscita, ed è lì che atterra, da Giorgia Meloni, che viaggia con sondaggi spaventosi e offre, ovviamente, garanzia di scranno quasi certa. Intendiamoci, per lei, mediaticamente, un colpaccio. Ma l'han s'arrampica invece sugli specchi. Purtroppo non potevo continuare a sostenere questo governo guidato da Mario Draghi. Grandioso, mitico. Detto da uno che difendeva il cavaliere anche quando volevano farci credere che Rubi Rubacuori, olgettina di origini marocchine, fosse la nipote di Mubarak, 314 deputati votarono a favore di questa orrenda bufala. Va detto che lo zio Silvio è però sempre stato molto generoso e comprensivo con Malam. Prima lo accoglie proveniente dalle file della Lega, poi gli garantisce ripetizione stipendi da deputato e senatore, e altri incarichi, e prestigio. Lui ricambia lavorando tanto. Nel 2002, proprio a Palazzo Madama, Malam è addirittura travolto dal sospetto di aver votato per quattro volte, al posto dei colleghi assenti. Lui dice che non è vero certe fotografie non dimostrano un bel nulla, scrive dure lettere di smentita e, naturalmente, tutti subito gli crediamo. Grazie per la visione!